cosa sta cucinando oggi sto preparando della pancia d'agnello l'ho fatta tutta feste allora vi dico come la preparo poi vi farò vedere magari il risultato finale allora metto l'agnello a rosolare con già il petto il sale del rosmarino e ho anche del mirto veramente di mia cugina va lei ha il mirto io lo uso averci adesso lo porterò a rosolatura una volta che sarà rosolato aggiungerò dell'aceto di vino bianco e del vino bianco secco lo sto preparando nella mia pentola storica di alluminio storica perché nel pericolo da quando mi sono sposata tanti anni fa quasi 50 e becchi va bene una certa età la vedete in azione anche con il rosbis all'inglese è un canale altra cosa che c'è sul mio canale che sto preparando sono i peperoni questa volta usato solo quelli gialli stanno rosolando per benino tra un po sono pronti va bene così che ho detto anche che c'è una bella ricetta per il rosbis all'inglese che a me viene rosa bellissimo che è una favola guardate perfetto basta tenere i tempi di cottura se volete andate a vedere ciao a tutti e buona domenica ciao